Buona pomeriggio dalla redazione del Tg della mobilità. 32 linee deviate o limitate, la chiusura della stazione Colosseo della metro B e lo stop al traffico di un'ampia area del centro. Prendono il via questo pomeriggio con i divieti di sosta e i primi provvedimenti per la viabilità in vista delle cerimonie di domani, festa del 2 giugno. Di vieti di sosta in vigore dunque dalle 14 di oggi tra Caracalla, Porta Capena, il Circo Massimo, Bocca della Verità, il Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via Cavour, Via di San Gregorio. Questa notte poi chiuderà Via dei Cerchi, mentre dalle 5 di domani mattina le chiusure comprenderanno le strade in un'ampia area tra Caracalla, il Circo Massimo, Via di San Gregorio, Piazza Venezia, Via del Teatro Marcello e ovviamente Via dei Fori Imperiali. Durante la mattina ulteriori chiusure interesseranno Via Nazionale e Via 24 Maggio. Sul versante del trasporto pubblico da inizio servizio di domani sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B e durante la mattina 32 linee bus saranno limitate o deviate. Saranno chiusi poi i capolinea di Piazza Venezia e Via del Teatro Marcello. In questo caso le linee si sposteranno in Via degli Astalli, in Piazza dei 500, a Piazza Barberini e a Monte Savello. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità. Grazie a tutti.